Sono stato inviato qui da un ordine segreto inglese al quale appartenevo all'epoca. Sono stato incaricato di trovare il luogo dove una confraternita si estinse nel Medioevo. Dice, siamo nel 1937, l'anno del Graal, e io attendo il tuo arrivo. Lei ha visto i cercatori del Graal? Oh sì, moltissimi. Arrivano in gran quantità da ogni parte e con tante idee differenti. Il Santo Graal, il Medioevo. Una sfida e una crisi senza uguali per la Chiesa. Una guerra sanguinosa e brutale a lungo dimenticata. E' un castello lontano e di difficile accesso nel sud della Francia. Scena di una tragedia, Montségur. Un momento magico, la mattina del 21 giugno, il solstizio d'estate. Le notti più corte lasciano spazio a mattinate più lunghe. In questo momento privilegiato, il sole sorge su Montségur e i suoi primi raggi penetrano all'interno del castello. Montségur, l'ultimo rifugio dei pericolosi avversari del Cattolicesimo. Montségur, per alcuni, Tempio del Sole, per altri, Castello del Graal. Montségur, per d'autres, Château du Graal. Il Graal, questo spiega la presenza dei ricercatori. E' solo una coppa? O è il simbolo di un altro grande segreto, la ricerca di qualcos'altro? E' il mistero principale dell'Alto Medioevo. Per alcuni è il santo Graal, altri parlano di un tesoro nascosto. Per me è solo un oggetto, l'Arca dell'Alleanza. Non c'è reliquia religiosa più preziosa dell'Arca dell'Alleanza. Nel XII secolo i Templari iniziano la ricerca. Con questo oggetto, nelle loro mani, sarebbero stati assolutamente invincibili. Così lo scrittore Graham Hancock segue la pista dei Cavalieri Templari fino in Etiopia, con il suo Custode dell'Arca. I Templari si considerano un ordine assolutamente privilegiato. Loro pensano di avere un diritto del tutto speciale sugli oggetti sacri. Per lo scrittore Ian Wilson, la ricerca del Graal da parte dei Templari tendeva al possesso della Sacra Sindone, che reca impressa l'immagine di Cristo morto. E' conservata nella cattedrale di Torino, dentro questa teca. Non un falso, ma secondo Wilson, il più santo dei segreti dal tempo dei Romani. Un Graal simbolico, un vero mistero per l'Alto Medioevo, che reca impressa l'immagine di Cristo stesso. Per gli scrittori Bejentli, il Graal ci porta a un altro mistero. Nel sud della Francia trovano indizi di una credenza che vuole Gesù non morto sulla croce, ma vivo, sposato e con dei figli. La sua stirpe continua nei Re Merovingi, e addirittura fino ai giorni nostri. Un segreto nascosto agli occhi del mondo da alcuni ordini esoterici. Nessun oggetto provoca tanta curiosità, interesse e speculazioni. Il Graal, un simbolo o soltanto una coppa? La leggenda narra che il primo portatore del Graal sia Giuseppe d'Arimatea, il ricco giudeo che seppellisce Gesù e raccoglie il suo sangue in una coppa. Altri dicono che si tratti della coppa usata durante l'ultima cena. Dov'è nascosto il Graal? Gli inglesi sostengono a Glastonbury, dove si suppone che sia stato protetto per secoli. Gli attuali ricercatori del Graal lo cercano in questa strana cittadina di provincia. Alcuni fanno buoni affari. Un posto ideale per i ciarlatani che giocano con il vecchio mito, in maniera tale che è difficile trovarci dietro una verità. Nella tradizione celtica Giuseppe d'Arimatea è considerato il prozio di Gesù. Questa storia ha corrispondenza con la leggenda gnostica che ci tramandano i Vangeli apocrifi. Sono questi stessi evangelisti che ci dicono che Giuseppe d'Arimatea usa il calice per raccogliere il sangue di Gesù Cristo deposto dalla croce. Per portare il calice in salvo Giuseppe d'Arimatea attraversa la Bretagna armoricana e la Gran Bretagna fino a Glastonbury, dove in accordo con la leggenda nasconde il Graal all'interno di una collina. La leggenda narra che, lontano da Roma, diverrà il padre della chiesa celtica sulle isole verdi dei Bardi e dei Druidi. Un mondo del sapere che nessuno conosce meglio dello scrittore e ricercatore bretone, Jean Marcal. I Druidi hanno una visione fortemente spirituale del mondo e credono in una vita dopo la morte. Questo perché il messaggio del cristianesimo è accettato con facilità dalla maggior parte della popolazione celtica. Effettivamente, molti Druidi iniziano a professare la nuova religione. Nei loro rituali, comunque, i celti cristiani conservano le antiche cerimonie, che sono in particolare l'adorazione di pietre e alberi considerati sacri. In effetti, nella campagna Breton e irlandese, possiamo ancora trovare molti santuari in mezzo alla natura, e qualche volta anche rituali strani che sono resti di un'età antica. Quindi, un tipo particolare di cristianesimo celtico fiorisce qui fin dal primo Medioevo, quando viene introdotto in modo fermo e deciso perché si distacchi dalla chiesa di Roma. La storia dice che per questa ragione l'abazia dove si trova la tomba di Re Artù cadrà in rovina. Ma ci sono dubbi che egli sia seppellito lì. Artù appartiene più al regno della leggenda che al suolo macchiato di sangue della storia. Artù, il re della tavola rotonda e della ricerca del grado. Artù è un personaggio storico, ma non fu mai re. Durante la guerra è un comandante, un generale della tradizione romana, probabilmente vestito come un centurione che riesce ad unire le tribù britanniche in guerra contro gli invasori sassoni. Ottiene il suo maggior successo militare vicino a Mount Bedon, nel sud-ovest dell'Inghilterra, e protegge i britanni dal dominio sassone per circa 50 anni. Artù comincia le sue campagne a sud di Kedri, questa collina fortificata che risale al tempo dei Romani. Ma a parte le antiche cronache e le tradizioni orali, non c'è alcuna traccia delle sue imprese. E questi terrapieni non ci parlano di Artù o del mago Merlino. Come Artù, anche Merlino è un personaggio storico che probabilmente viene dalla parte più bassa della Scozia. La leggenda vuole che impazzisca dopo una battaglia e trovi rifugio nei boschi. Lui è l'uomo selvaggio della foresta che trasmette le sue conoscenze agli altri. Merlino e Artù sono due personalità speciali nella mitologia europea e sono per molti aspetti memorie di Mitra e Varuna che appartengono al mito indo-europeo. Mitra è il dio della giustizia e della conciliazione, garante dei contratti, e Varuna è il mago che ispira i re e incita la società a svilupparsi ulteriormente con le nuove scoperte. Merlino provoca la nascita illegittima di re Artù. E' Merlino che lo guida a Excalibur, la spada del potere, per trasformarlo nel grande re che il regno aspetta per ripristinare il potere e la grandezza. A questo punto Merlino scompare e lascia Artù a sbrigarsela da solo. Sfortunatamente la leggenda riferisce che anche se Artù possiede in gran misura la saggezza dei druidi è anche un re mortale con tutte le umane debolezze che questo comporta. Artù riceve Excalibur e il potere da una donna, la Dama del Lago. Le cose precipitano quando Artù si scaglia contro un'altra donna, la Regina Ginevra, messa al bando e maledetta per gelosia. Le distruzioni della guerra hanno inizio e il paese diventa desolato e sterile. Dobbiamo trovare ciò che si è perduto, il Graal. Solo il Graal può riportare vita e fiori frugate la terra fino all'estremo confine. Solo il Graal ci riscatterà. Il re ha parlato. Io cavalcherò in nome di questa ricerca. Troveremo il Graal o moriremo. La ricerca del Graal è un percorso verso l'iniziazione e rappresenta un ritorno al più antico degli archetipi e ai più lontani confini della mitologia. È una storia d'avventura, nel senso che noi abbiamo un eroe mitologico mandato lontano da casa per recuperare un manufatto perduto e nascosto in qualche posto del mondo, o su un'isola nel mezzo dell'oceano, o in una profondissima e oscura foresta. È la storia di Ercole, di Giasone, di Orfeo e degli Argonauti. Queste immagini fanno parte della memoria collettiva umana. La ricerca di ciò che è perduto è frutto del nostro inconscio collettivo. Così, in la ricerca del Santo Graal, che fa parte dei racconti della tavola rotonda, i cavalieri partono per un'avventura, ma ancora di più per una ricerca. Una ricerca profonda dentro la loro essenza interiore e un ritorno al senso della vita. Vogliono trovare la verità dentro di sé perché nel mondo noi siamo divisi e dispersi. Ecco perché coloro che cercano il Graal devono essere puri. Solo coloro che si sono disfatti dei legami di questo mondo possono trovare l'accesso al castello di Fiaba dove è conservato il calice santo che tutti cercano ma che pochissimi potrebbero trovare. La ricerca è tanto antica quanto l'uomo stesso. Il Graal di Artù può esistere da prima dell'era cristiana quando i druidi ancora governano sul mondo celtico. Uno degli attrezzi magici è il calderone che viene portato dalle isole verso il lontano nord. Il calderone fornisce nutrimento senza fine per quelli che lo meritano ed è considerato una sorgente di divina ispirazione e di rinascita. Le persone morte gettate in esso tornano in vita. Ed ecco il prototipo del Graal che ha in sé la resurrezione. La fonte di Barenton è la fonte che fa pleuvere. La fonte di Barenton è la fonte che fa cadere la pioggia. Simboleggia l'acqua che cade dal cielo e dà vita e fertilità. La fonte è femminile ed indica l'importanza delle divinità femminili nel mondo celtico. La divinità dell'acqua è la fata Viviana. La leggenda vuole che Merlino la incontri qui alla fonte di Barenton e Viviana è anche la dama del lago. Lei provvede alla vita che sgorga dal suolo. La donna dà la vita. Simboleggia l'acqua, il calore e l'energia che ha come simbolo la luce del sole. E vediamo come tutte queste cose convergono nel Graal perché il Graal è un calice tenuto da una donna che contiene una bevanda di ispirazione, di immortalità, di saggezza e di guarigione. Il sangue di Cristo in termini cristiani, l'acqua che sgorga dal suolo in termini pagani. È esattamente lo stesso simbolo. Hai cercato per dieci anni e un giorno. Così a lungo. E dimmi, hai trovato ciò che cercavi? Non ho trovato nulla, solo dolore e morte. Morgana è l'immagine della Terra Madre, la Dea Madre, gelosa custode dei misteri passati. Tu hai cercato con impegno. Gli uomini sono indegni di possedere tale potere, tale conoscenza. Lei è la Divina Madre che ama e nutre i suoi bambini. Bevi e unisciti a me. È un mito che si perde nella notte dei tempi, poi trasmesso dai poeti celti e di nuovo adottato nell'immagine cristiana del Graal e per questa ragione arriva fino a noi. La grande madre dei tempi pre-cristiani ha ancora un significato, è la divinità primordiale che ci dà la consapevolezza dell'immortalità. Quel misterioso Graal perso in un castello nel profondo di una foresta o su un'isola in mezzo all'oceano. ma c'è un'altra tradizione che narra la storia in maniera diversa. Si suppone che il Graal arrivi in Europa come vuole la leggenda su questa spiaggia di Saint-Marie-de-la-Mer. È un evento che si celebra ogni anno. L'arrivo di Giuseppe d'Arimatea e di Maria Maddalena in Europa che portano il Graal. La storia francese dice che Giuseppe d'Arimatea sbarca qui con qualche altro compagno di Gesù, Maria Maddalena, Sara. Ogni anno arrivano migliaia di zingari da tutte le parti d'Europa in pellegrinaggio in questo posto dove si dice che si è arrivato il Graal in Francia. E anche qui un conflitto all'interno della cristianità esplode in una guerra sanguinosa. qui la chiesa affronta brutalmente la sfida del suo più vecchio rivale. Un'ultima onda di gnostici i catari coloro che passano attraverso la catarsi i perfetti i purificati. Una crisi da cui la leggenda del Graal prende il nuovo slancio una tragedia che finisce a Montségur. Quelli che sono radunati qui questa mattina ai piedi del castello di Montségur vengono a commemorare un atto di barbarie commesso 750 anni fa. 750 anni fa dopo un assedio durato 10 mesi 220 i perfetti scesero dal castello vennero gettati dentro una recinzione e bruciati. Il rogo di Montségur pose fine all'eresia dei catari. Molti di questi uomini e donne discendono dai soldati e dalle famiglie che per 10 mesi combatterono e resistettero all'assedio di Montségur. Queste persone adesso combattono l'intolleranza che pose fine brutalmente al catarismo. Catarismo nato nel Medioevo con origini e radici profonde e forti come lo stesso catolicesimo. Il catarismo non precorre la riforma. Non è un'eresia del cattolicesimo o una fede protestante. È una fede completamente diversa. Risale ai primi tempi del cristianesimo ed ancora prima quando la gente sente questo mondo come un mondo di ombre e torna sui suoi passi verso la realtà verso il vero mondo. il mondo spirituale il mondo divino e pensa di poterlo trovare dentro se stessa. Non ha bisogno di nessuna mediazione sia essa la Chiesa o la Bibbia. Nel 1945 dei contadini egiziani trovarono delle vecchie pergamene nascoste all'alba del cristianesimo da uomini che temono la persecuzione da parte di altri cristiani. La scoperta da Gilles Kipel riconoscimento scientifico in tutto il mondo. I documenti che aiuta a tradurre e pubblicare sono gli insegnamenti degli ignostici. Per gli ignostici questo mondo non è un mondo reale ma di ombre. la chiave per il mondo divino è l'agnosi. Per loro questo è ciò che insegna veramente Gesù. Queste sono le parole nascoste di cui parla il Gesù vivente. E Didimo Giuda Tommaso scrive e lui disse che troverà la spiegazione di questo. Il Vangelo gnostico di Tommaso rifiutato dalla Chiesa ha la pretesa di riportare le vere parole di Gesù come i Vangeli accettati dalla Chiesa scritti prima da Marco e Matteo poi da Luca e Giovanni che vengono due o tre generazioni dopo Cristo. I catari sono gnostici come tali sono gli eredi degli antichi gnostici vissuti ad Alessandria d'Egitto all'inizio della nostra era. sono ebrei che vivono in esilio e che trovano un Dio sconosciuto nei loro cuori ma nello stesso tempo non riescono a trovare questo stesso Dio nel mondo perché il mondo è pieno di cattiveria disagio e miseria e perciò decidono che questo mondo è stato creato da un Dio minore Geova la loro divinità tribale. Il mondo un inferno non può essere il lavoro del buon Dio lui non crea cielo e terra quel Dio del Vecchio Testamento crea solo cose materiali oscurando un mondo vero e divino per gli gnostici Geova è un Dio falso crea l'uomo lo imprigiona nelle cose materiali lo trascina in una vita di dolore che finisce con la morte e l'uomo creato a sua immagine è così assorbito nel costruire ed accumulare da ignorare la scintilla della verità e il divino che c'è dentro di lui ma si può trovare la luce del divino se non in questa vita nell'altra gli gnostici credono nella reincarnazione quando gli ebrei di Alessandria ad Egitto diventano cristiani Gesù fa appello alla loro parte più profonda e insegna loro il modo di essere intimi con se stessi loro dicono chi conosce se stesso conosce Dio per gli gnostici Gesù non è il figlio di Dio ma un messaggero che mostra il modo per trovare la verità un modo interiore per la Chiesa Gesù muore per i nostri peccati la nostra sola speranza è riposta nella pietà di Dio attraverso l'intermediazione della Chiesa la Chiesa deve mostrare il modo e noi obbedire la Chiesa diventa un'organizzazione perfetta stabilisce una confessione di fede alla quale devi credere e un canone della Bibbia che devi accettare un vescovo decide che cosa è vero e che cosa non è vero gli gnostici comunque non credono in nessuna autorità esterna seguono solo l'agnosi del loro cuore e a nessun capo questo può piacere amare dispute teologiche dominano i primi secoli della cristianità nicea 324 costantino il primo imperatore romano ad abbracciare la fede chiama in causa i vescovi ciò che impone costantino diventa la base per il credo cristiano fino ad oggi noi crediamo in un solo Dio creatore di tutte le cose visibili e invisibili e il nostro signore Gesù Cristo figlio di Dio nato dal padre Dio da Dio luce da luce come uomo di stato costantino opta per l'organizzazione il cattolicesimo prevale le dottrine gnostiche agonizzano la fede rende gli gnostici indifesi quando una possente chiesa comincia a perseguitarli nell'arco di un secolo vengono virtualmente eliminati alcuni fuggono verso le montagne dell'Armenia un riparo che li tiene a sicuro per oltre 500 anni intorno all'anno 1000 sono costretti a stabilirsi in Bulgaria qui trovano nuova forza predicatori itineranti arrivano in Bosnia trovano seguaci nel nord Italia in Francia in Germania anche in Inghilterra una sfida crescente per la chiesa e nessun luogo è un terreno così fertile come il sud della Francia la lingua d'oca è una regione senza eguali in Europa nell'Europa di quell'epoca ancora avvolta nell'oscurità del medioevo la lingua d'oca occupa una posizione speciale un paese ricco ma anche un paese libero dove soffia dove soffia un vento di libertà un paese dove fiorisce l'arte dove si coltiva la letteratura così a Tolosa nasce la prima accademia di giochi floreali che ogni anno incorona il miglior poeta nei secoli bui improvvisamente fioriscono poesia letteratura e canto il mondo musulmano vicino si apre a nuove idee vengono dette parole che proclamano che l'uomo deve essere libero libero dagli artigli di un clero ignorante e avido ecco che la grande sfida alla chiesa sta avendo inizio è un mondo dove gli uomini portano avanti un messaggio di semplice amore spirituale vengono chiamati catari coloro che passando attraverso la catarsi sono purificati e perfetti respingono ricchezza e matrimonio conducono una vita austera in un'epoca che va da poco all'uomo loro insegnano un modo personale per arrivare a dio e sono accolti a braccia aperte in molte nobili corti in un mondo che desidera ardentemente purezza e libertà di spirito questo è il primo paese nel quale sono liberi di divulgare la loro parola e da qui parte una catena di aventi che coglie di sorpresa l'Europa medioevale una svolta nella storia che sorprende gli studiosi ancora oggi un mondo totalmente inasperito dalla violenza si trova di fronte al più inaspettato trauma immaginabile l'anima fa la sua ricomparsa in Europa e insegna che ci sono piaceri che si battono uno contro l'altro Levi Strauss lo esprime magnificamente quando dice che l'Europa del XII secolo ha perso la sua grande opportunità di rimanere donna optando invece per il profeta Barbuto e il profeta Barbuto è rappresentato dal patriarcato perfezionato dalla Chiesa di Roma e favorito dalla legge Salica si tratta della legge che impedisce alle donne di ereditare e impone che solo l'uomo possa governare vale per tutta l'Europa con una sola eccezione il sud della Francia in Aquitania la legge Salica non viene applicata questo perché Eleonora d'Aquitania ereditò quel paese enorme lei diviene in realtà padrona di se stessa e sposa il re di Francia che possiede una minor quantità di terra ma dopo 15 anni il matrimonio viene annullato perché egli si comporta come un monaco nei confronti di lei è una cosa scandalosa per tutto il mondo di quel tempo ma un altro grande scandalo è il suo successivo matrimonio con Enrico II l'erede del trono inglese la coppia appena sposata regna su un dominio che si estende dai confini della Scozia e i Pirenei e contiene una grande mistura di culture linguaggi e popolazioni per tenere insieme questo regno Eleonora ha una fantastica idea prende l'antica saga celtica di Artù e del Graal e crea una nuova ideologia che vada bene per tutte le sue terre vale a dire un amabile re e una regina Artù e Ginevra governano su una corte felice e pacifica con i signori che sono tutti allo stesso livello e commissiona i suoi poeti di corte testi melodie e poemi epici come quello di Tristano e Isolde Uomo e donna uguali la questione trova un terreno fertile i catari che rispettano l'individuo e riconoscono la donna prete preparano una nuova spiritualità in questo paese di trovatori i poeti tessano le lodi delle figlie dei catari di aristocrazia pura e alla ricerca del divino in un'età che non ha interesse per l'amore l'amore è cantato in ogni modo amore spirituale amore carnale i trovatori aprono la mente a modi nuovi di pensare diffondono elegantemente l'amore in tutta l'Europa e fanno della donna il loro idolo questo è il clima dal quale sorge un nuovo mito l'avventura per la ricerca del santo Graal di questa avventura esistono moltissime versioni tra cui la più completa è quella di Wolfram von Eschenbach queste versioni si diffondono per tutta l'Europa viaggiano in lungo in largo in castelli come questo in cui fioriscono corti virtuali della letteratura nessun mito conquista i cuori dell'Europa medievale quanto quelli sulle battaglie sull'amore e la ricerca il sangue di Cristo Giuseppe d'Arimatea il Graal e il suo misterioso castello nel quale Cristo stesso potrà servire la messa finale che lingua è questa? è tedesco medievale da Wolfram von Eschenbach dal suo Parsifal Parsifal l'ultima e più enigmatica versione del mito per molti il suo autore Wolfram von Eschenbach è influenzato dalle idee dei cateri Parsifal entra in questo mondo da ignorante ed eccelle in brutalità arriva al castello del Graal ma non riesce a liberare il suo guardiano il re pescatore che si è misteriosamente ferito solo umiliandosi in questo mondo materiale lui può liberare il re pescatore e trovare finalmente il suo Graal è il modo personale di un uomo per arrivare alla purezza al divino e conseguenti alle idee dei cateri altre influenze sembrano essere al lavoro von Eschenbach lo scrive in questo castello di Windenburg sotto gli occhi di un ordine potente quello dei cavalieri templari creato dal papa per le crociate l'ordine dei templari indaga sulle altre fedi le idee gnostiche che perdurano nel Medio Oriente e che potrebbero mettere in pericolo i segreti ben nascosti dalla chiesa Wolfram von Eschenbach e i racconti templari del Graal i templari come cavalieri del Graal come cavalieri del Graal lui codifica questi segreti naturalmente si può affermare con assoluta certezza che ci siano occulti segreti all'interno delle file dei templari ma non soltanto questo l'ordine ha uno statuto segreto e certamente ha conoscenze segrete e culti segreti ci sono qui vicino i resti di un castello dei templari e sono ancora visitabili ad ogni membro dell'ordine dei templari si impedisce sotto pena di morte di dire a chiunque al di fuori dell'ordine qualsiasi cosa sulle sue regole segrete e i rituali e i loro castelli oggi pressoché tutti in rovina erano extraterritoriali per ogni potere secolare e religioso ma perché erano così segreti se non avevano niente da nascondere i catari i catari conoscono anche i corridoi segreti per l'iniziazione che risalgono ai culti misteriosi greci e medio orientali un raggio di luce avrebbe potuto illuminare un raduno per il culto un incontro col nuovo dio i templari e i catari avrebbero potuto adorare lo stesso dio nella profondità della terra questo è un luogo per le cerimonie d'iniziazione del mistero segreto del graal speculazione una chiesa templare giace dimenticata Monsonet nei Pirenei essa contiene prove stupefacenti dei più vecchi culti completamente estranei alla chiesa di Roma la testa della Sofia l'anima portatrice della verità gnostica simboli di divinità pagane e stelle come Orione la costellazione che l'Egitto antico adora come Dio Osiride qui il gran cacciatore con Sirio la stella del cane suo compagno o Iside consorte di Osiride dei egizi di resurrezione la piramide composta da sette parti anche il calderone dei druidi celti qualcosa di lontano dal cattolicesimo si fa avanti in seguito l'ordine dei templari verrà distrutto ma prima la chiesa ha imposto il suo dogma contro i catari il tema del graal nasce in quel momento quando la chiesa tenta di risolvere alcuni problemi in particolare sull'eucarestia e non è una coincidenza che nasca intorno al 1215 quando il concilio laterano proclama il dogma della transustanziazione che è intesa come il mistero attraverso il quale il pane ed il vino divengono realmente il corpo di Cristo una cosa in cui i catari non credono per loro è impossibile che Dio si reincarni in qualcosa di vile come un corpo materiale un corpo umano una creazione diabolica per loro la vita di Cristo sulla terra è solamente un aspetto della vita umana anche la sua passione la sua morte sulla croce è solamente apparenza ed è impossibile assolutamente inconcepibile che lui sia realmente presente nell'ostia Eucaristia e Graal armi per la più grande prova che la chiesa affronta ma non sono le uniche l'ordine gentile dei francescani riconquista il cuore dei poveri quasi persi a causa degli umili catari Roma pone la mente acuta di San Domenico contro gli ignostici in un dibattito teologico viene messa alla prova la sua equità ma il suo nuovo ordine crea un'altra arma per questa occasione l'inquisizione che incute paura per i secoli a venire e Roma chiama alle armi adescati dalla promessa papale di Bottini e conquiste gli eserciti dei cristiani del nord si radunano per una crociata mai eguagliata nel cuore dell'estate del 1209 l'esercito del nord della Francia rafforzato dagli olandesi i frisoni e i tedeschi arriva per primo nella città formidabile di Béziers sì una città formidabile tutta cinta di mura abitata da 15 20.000 persone e 200 catari di cui i legati papali esigono la consegna da parte dei cittadini il legato papale ordine uccidete tutti Dio vuole così le chiese divenute scenario di massacri e scandali cristiano contro cristiano e nel nome di Gesù la prima volta nella storia del mondo la storia dice che nemmeno contro i saraceni abbiamo agito peggio ruscelli di sangue di centinaia e migliaia di persone una città sterminata uccidete tutti è un ordine di Dio? sì è un ordine di Dio ma Dio non farebbe mai una cosa del genere catari e cattolici entrambi volevano scatenare il terrore nei cuori di una popolazione alcuni catari si rifugiano qui a Minerva una cittadina sulle montagne che sembrano inaccessibili ecco la seconda grande tragedia delle crociate questa volta è lì che bruciano al rogo il vero il primo ai catari si chiede di abbiurare la loro fede se rispondono no devono essere bruciati è la legge della chiesa là in quel prato viene accumulata un enorme catasta di legna vi saranno gettati dentro anzi no si saltano dentro da soli si buttano spontaneamente in mezzo alle fiamme che li divorano muoiono là 140 uomini e donne forti della loro fede 240 uomini e donne fideli a loro fede dappertutto ora i roghi bruciano nella lingua d'oca ma anche nella renania tedesca 189 roghi in un giorno nello champagne 400 a verona in italia la lingua d'oca la regione più ricca d'europa è messa a ferro e fuoco soccombe sotto un secolo di crociata e persecuzione nel momento in cui la chiesa getta la sua maledizione sui catari siano dannati ogni giorno ed ogni notte possano i loro occhi diventare ciechi i loro piedi non camminare più possano essere seppellati con cani ed asini e lupi affamati divorino la loro carne nemmeno le loro ossa devono rimanere la chiesa distrugge qualsiasi memoria di loro ma è l'inquisizione che sconvolge la lingua d'oca ogni più piccolo villaggio viene passato al setaccio gli inquisitori dicono bene provaci che sei sincero tradisci i tuoi genitori così il tradimento viene istituzionalizzato e quella società intera trova l'agonia della terra è su queste facce passeranno ancora più di cento anni prima che gli ultimi catari vengano bruciati la lingua d'oca è sconvolta la sua gente letteralmente decimata il buio dura per secoli a Montségur montagna rifugio divenuta sede centrale dei catari la tragedia trova il suo culmine un assedio di dieci mesi la batte ma poco prima che le cose precipitino un capo dei catari e tre uomini passano attraverso le file nemiche e scompaiono nelle caverne vicine ciò che portarono con sé crea dicerie per i secoli a venire un tesoro o solo la speranza di preservare la loro fede o come racconta la leggenda il santo graal alla resa di Montségur 220 catari muoiono sul rogo sebbene nessun cataro uccida un cattolico la chiesa li dipinge come assassini brutali peggio dei barbari per secoli la chiesa cerca di far dimenticare alla gente i rughi e i catari tuttavia da una cinquantina d'anni si deve ai poeti e agli storici ma anche alle società segrete i cui sentimenti sono simili al catarismo se Montségur è uscito dall'obbligo è uscito dall'oscurità e sorti della nuve società di occultismo e gruppi esoterici sviluppano un profondo interesse per il graal simbolo di ricerche segrete è la personificazione delle loro stesse ricerche da tale contesto viene Antonin Gadal sedicente profeta dei catari e uomo che orbita intorno a Montségur come il giovane inglese Walter Burks suo intimo amico dice siamo nel 1937 l'anno del graal e io attendo il tuo arrivo sono inviato qui da un ordine segreto inglese al quale appartenevo a quell'epoca sono stato incaricato di trovare il luogo dove una confraternita si estinse nel medioevo ho letto vari libri sull'argomento e in particolare uno di Maurice Magr Il ritorno dei magi che descrive con dettagli eccitanti come la confraternita viene murata in questa caverna almeno 500 catari muoiono nell'oscurità e alla fine le ossa vengono rinvenute 250 anni più tardi le ossa risultano essere preistoriche ma Gadal è convinto l'ultimo dei catari si è rifugiato qui Gadal trova pietre simboliche e caverne per le cerimonie di iniziazione visionario o mitone ma la rivelazione di Gadal è fatta propria da un altro visitatore nei primi anni 30 un giovane tedesco otto ran rampollo di un paese lacerato tra il rancore dovuto a una guerra mondiale perduta i sogni di gloria e la grandiosità wagneriana nasco sotto il magico splendore del Graal Parsifal Sigfrido Odino Wotan sono i miei padrini senza questo romantico tedesco otto ran non ci sarebbe un risveglio del Graal un risveglio di Montségur e un risveglio dei catari otto ran ispirato da Gadal esplora le caverne e le montagne intorno a Montségur e pubblica un libro crociata contro il Graal un libro pensa deve essere tradotto in tutto il mondo in modo che tedeschi olandesi inglesi tutti si affrettino a venire qui a visitare le caverne d'iniziazione dei catari i portatori e adoratori del Graal e tramite la sua lettura sapere con sicurezza che Montségur è il castello del Graal fatto uscire da Montségur la notte che precede la sua caduta il Graal viene nascosto nelle caverne vicine dice Ran Otto Ran è un frequentatore della famiglia di Christian Bernadac che vive lì vicino Bernadac è affascinato dal tedesco la parte viene in sua leere unvermendente in sua organizzazione stessa in sua organizzazione ma è un ordine Hitler fonda un impero che dovrebbe durare mille anni non comprende ancora bene quanto la sua ideologia sia profondamente radicata nell'occultismo il promotore principale è un uomo dal potere immenso Heinrich Himmler capo delle SS e capo della Gestapo a Himmler piace il libro di Ran è affascinato dal Graal Ran viene chiamato a far parte dello staff personale di Himmler L'idea del Graal è presa in prestito dal Thule Gesellschaft da teosofi e antroposofisti e a Vienna coinvolgerà anche Hitler e più tardi Himmler entrambi che non hanno una grande istruzione e preparazione la recepiscono all'inizio in una forma diciamo popolare però a tutti e due piace vedersi in quel contesto Hitler come Parsifal protettore del Santo Graal del sangue tedesco le sue guardie pretoriane e le SS sono la colonna portante della nuova elite tedesca Himmler è fermo nella sua idea di raggiungere la purezza della razza è Himmler che ispeziona i campi di concentramento li considera un luogo dove le sue SS possano forgiare nell'acciaio il proprio carattere e questo è Weversburg il suo castello segreto della tavola rotonda dove si radunano i dodici uomini più importanti della sua cerchia per progettare il futuro qui lui non permette a nessuno di scoprire il suo gioco è da qui che la vita interna delle SS viene organizzata intorno a questo sole nero Himmler progetta il futuro occulto del nazismo e da Weversburg guida un enorme centro delle SS che nel suo disegno somiglia alla santa lancia che ha forato il costato di Cristo e nei meandri occulti delle venti naziste Otto Rahn prova a cercare l'unione col santo Graal e ad accordarlo a un fantasioso culto di cavalieri tedeschi la sua gente tenta di manipolare il cristianesimo in modo tale che i suoi veri inizi devono essere cercati nelle origini ariane e non in quelle del Medio Oriente per questo prima si deve tornare a tutti i possibili generi di idee occulte e alle ideologie che sono presenti in gran quantità nella storia dell'Europa la ricerca del Graal per esempio insistono sui catari per cercare di provare che già dal primo medioevo quel cristianesimo e come si manifesta era più che altro un modo per ottenere del potere sulla gente ad ogni modo le SS vogliono andare oltre senza dire che le persone sono prigioniere di un genere completamente nuovo di schiavitù in queste sculture rupestri il nazista è visto come il dragone e Geova il creatore di un mondo cattivo che minaccia un Cristo gnostico quello che a Himmler piace del libro di Rahn è che parla di gnostici che rifiutano il Dio giudeo del Vecchio Testamento e respingono la morsa della Chiesa per molti anni Rahn lavora nello staff generale di Himmler ma delude il suo capo e si dimette nonostante le lettere che minacciano un castigo Otto Rahn prima di tutto è sconvolto dalla sua esperienza nei campi di concentramento va a Oranienburg a Buchenwald a Dachau ed è testimone dei crimini non è ancora la camera a gas ma vede la brutalità e l'orrore questo gli pone probabilmente seri problemi e poi lo mandano in quelle infami case di Lebensborn dove giovani donne ariane belle e bionde offrono i loro corpi per far nascere bambini tutto questo lo sconvolge profondamente lui non è d'accordo con un tentativo delle SS di ridimensionare la leggenda del Santo Graal Himmler vuole tentare di costruirci sopra una religione nuova e lui non può proprio condividerlo nella notte tra il 12 e il 13 marzo del 1939 mio zio Otto Rahn prende una decisione estrema quella di lasciare volontariamente questa vita come catara ma l'interesse si è risvegliato ogni anno migliaia di persone visitano le caverne e il castello di Montsegur non per fantasticare sul nazismo ma per ritrovare una fede gentile annullata dalla faccia della terra molto più semplicemente per cercare se stessi sebbene alcuni vadano ancora in cerca del Graal la gente è pronta a scavare quasi dovunque secondo alcuni guidati da una conoscenza ispirata da una fonte soprannaturale su dove scavare il Graal non è un oggetto materiale che puoi trovare fisicamente è un simbolo in effetti la possibilità di assorbire qualcosa del divino ovviamente se noi non abbiamo una qualche coscienza della divinità non possiamo assorbirla almeno fino al momento in cui ne avremo la capacità simbolicamente la coppa può contenere delle parti di luce divina quindi realmente la ricerca del Graal è la ricerca dentro di noi di noi Grazie a tutti.